Capo Russo a rapporto! Il nostro piano fallirà se non eliminiamo subito quegli incrociatori. Avviate l'attacco! Mi sono riconoscendo. La mia nave regge a stetto! La mia nave regge a stetto! Questa volta potrei non farlo! Nave distrutta! Una squadriglia di Ala Y si è unita a noi! Ascoltateli mentre eseguono il loro attacco! Questa è frutta! Ottimo! I nostri Ala Y hanno completato l'attacco! Preparo subito il mio attacco! Giorno! Un altro po' dalla morte! Giorno! Un'altra portata! Un'altra notte! «Le nostre porzoblocchi sono arrivate! Proteggetele dagli imperiali così infliggeranno gravi danni!» Avanti così! Cettimento strutturale imminente! Finiteli! Un incrociatore distrutto! Resta ancora uno! Incrociatori eliminati! Ricerca difese aggiuntive! Il volo è provisto di scudi protettivi! Distruggete i generatori che li alimentano! La forza mi indicherà la via! Abbiamo dei bombardieri ala Y di rinforzo! Proteggeteli! E' una splendida nave! Apporto sui danni, R2! La squadriglia di ala Y ha portato a termine il bombardamento! Distruggete quei generatori di scudo! Poi penseremo allo Star Destroyer! Guerra non fa nessuno! Una nostra forza blocchi subisce gravi danni! Difendetela! Dopo la vita! La morte! Sì! Brutto colpo! Abbiamo colpito! R2! Hanno distrutto una forza blocchi! Non possiamo permetterci di perderne un'altra! Io ho uno in coda! Il volo è ancora protetto dagli scudi! Distruggete quei generatori! Percepisco il tuo potere! Alle nostre spalle! Questa battaglia è finita! Generatore distrutto! Continuate! Percepisco il tuo potere! Questa battaglia! Questa battaglia è finita! Avanti così! Hanno distrutto entrambe le portablocchi! Il lato oscuro è potente! Un trionfo per i geni! Un altro distrutto! Avanti così! Risparano! Avanti così e finiremo in un attimo! Ancora uno! Generatori eliminati! Attenere l'iscalsione in corso! Credo che possiamo farcela! Brutto colpo! Nuovi ordini! Colpite le morse da tracco! Così lo Star Destroyer resterà senza scudi! Fenone! Manca poco! Il nostro incrociatore da battaglia è arrivato giusto in tempo! Distruggete quelle difese e potrà sparare con i cannoni! I nostri ala Ypsilon hanno iniziato il bombardamento! Proteggeteli dai nemici! Diamoci dentro! Bene! I nostri bombardieri ala Ypsilon sono passati! Il reattore è scoperto! Colpitelo con tutto quello che avete prima che riattivino gli scudi! Bene! Stanno cedendo! Me lo sento! Scudi nemici ripristinati! Fuoco contro le mosse! Ehm... Ho solo la forza a guidare la mia mano. Subisco danni! Sì, colpisco! Scudi fuori uso. Concentrare il fuoco sul reattore. Non abbiamo molto tempo. Uno in meno di cui preoccuparsi. Il reattore dello Star Destroyer sta cedendo. Non reggerà a lungo. I scudi si sono riattivati. Dobbiamo colpire di nuovo le morse. Usi. Un'ultima spotto. Ecco fatto! Scudi disattivati! Abbiamo poco tempo per colpire il reattore! Presto, prima che li riattivino! C'è l'abbiamo fatta! Ora l'impero allenterà la presa sull'intero sistema! Non tiعi? Non tiعi? Non ti auguri! Grazie a tutti.